Sono 113 le persone senza fissa dimora, 26 di queste minorenni cui il Comune di Bari sta prestando assistenza dalla scorsa notte, tutte ospitate nelle strutture allestite, nelle palestre degli istituti scolastici Giuseppe Mazzini in centro e San Francesco nel quartiere Iepigia ed in alcuni ambienti del Teatro Petruzzelli di Bari attrezzati con brande dalla Multiservizi. A queste si aggiungono le 220 persone senza fissa dimora seguite quotidianamente dall'amministrazione comunale durante tutto l'anno. A fare il bilancio di quanto il Comune sta facendo per i meno fortunati è stato il Sindaco Michele Emiliano in un vertice convocato per continuare a garantire loro, grazie a volontari e cittadini, il miglior supporto possibile. Scuole Petruzzelli dunque aperti a Bari per l'accoglienza nei giorni del grande freddo, nelle palestre delle due scuole messe a disposizione del Comune, anche decine di Rom che potranno dormire lì ma dopo l'emergenza dovranno tornare nel loro campo, nelle campagne di fronte al lungomare. Abbiamo bisogno del vostro aiuto, dice il portavoce della comunità. Al Sindaco Emiliano chiedono di costruire un altro campo Rom sul modello di quello già realizzato a Iepigia dove ci sono acqua, bagni, luce e riscaldamento. Il Comitato Operativo Comunale per la Protezione Civile provvederà a monitorare la situazione perché si attende un nuovo peggioramento già da sabato prossimo.